ciao ragazze bentornati nel mio canale oggi unboxing con cobeads questa è la mia quarta collaborazione con il sito e sono davvero davvero contenta io ringrazio immensamente lo staff perché ovviamente mi riconferma e quindi io sono contentissima di collaborare con loro prima di mostrarvi cosa ho selezionato e scelto dal sito di cobeads ci sono davvero delle cose carinissime in questo pacchetto che non vedo l'ora di mostrarvi voglio dirvi qualche appunto per quanto riguarda la spedizione loro spediscono con sl it italian special line è davvero un metodo di spedizione davvero molto veloce infatti in dieci giorni lavorativi il mio pacco è arrivato tra le mie mani e i prezzi delle spedizioni vi lascio il link in descrizione perché in base alla quantità che appunto acquistate dal sito i prezzi delle spedizioni sono differenti ci sono davvero tante modalità di spedizione oltre alla sl it ce ne sono davvero tantissimi quindi in base alle vostre le vostre esigenze potete tranquillamente scegliere il vostro metodo di spedizione se aspettare di più aspettare di meno quindi in base a quello ci sono diversi tipologie oltre a questo quindi ve lo lascio ovviamente in descrizione come vi dicevo prima oltre a questo voglio anche lasciarvi in descrizione un codice sconto un codice sconto dal valore di 5 dollari per chi volesse acquistare appunto dal sito di cobbiz quindi credo che fa sempre piacere un piccolo un piccolo codice un piccolo codice sconto quindi bando alle ciance vado a spacchettare il mio pacchettello e vi mostro cosa cosa ho scelto ovviamente il pacco è sempre bello sigillato imbottito con il pluriball quindi arriva tutto integro ve lo posso assicurare perché vi ripeto la quarta volta che collaboro con loro quindi mi è sempre arrivato tutto bello perfettamente imballato e sempre tutto integro quindi adesso vi mostro cosa ho scelto aspettate che spacchetto il tutto e ritorno da voi ed eccomi qua ho preso diverse cosine vi illustro prima queste qui in basso ho preso questi graziosissimi sacchetti in tela per le nostre creazioni questo è appunto il codice di questo articolo questi misurano esattamente 12 per 9 centimetri sono come dicevo prima dei sacchetti in tela davvero molto carini con questa bellissima nuanza sul sito ne trovate davvero di tantissime tantissime colorazioni e anche dimensioni differenti quindi ci sono anche più piccoli anche più grandi quindi davvero davvero ottimi e il prezzo questi qui sono esattamente 10 pezzi e questi l'ho pagati sì un euro un euro sì sono davvero dei prezzi favolosi quindi ve lo straconsiglio come sito oltre per la qualità anche per la quantità e anche del pezzo ovviamente il risolio perché davvero ci possono essere utili per imballare le nostre creazioni e mettere appunto il cartoncino con gli orecchini inserirlo all'interno di questa di questo sacchettino e poi aggiungere che ne so anche qualche tag del genere infatti ho preso anche questi graziosissimi adesivi davvero molto colorati questo è il codice sono carinissimi tutte nuance molto chiare con la scritta thank you questo è il codice però vi ripeto tutti i link dei vari dei vari prodotti ve li lascio anche giù nell'info box io ve lo illustro ve lo mostro così e questi sono sempre 10 fogli davvero molto molto carini ve li mostro soltanto uno ce ne sono come dicevo prima diverse tipologie con la scritta sono appunto adesivi questi potete tranquillamente attaccare sulla sulla scatolina o anche sul bigliettino da visita perché no davvero molto carini questi aspettate che non so se mi sono scritta quanto costavano si meno di un euro 94 centesimi quindi davvero davvero ottimo poi ho preso altre cosine interessanti quindi vi illustro prima i ciondolini questi qui in acciaio ne ho presi differenti quindi ne prendiamo uno alla volta ho preso questi ciondolini carinissimi con la forma della zampina del cagnolino questo è il codice sono precisamente 10 pezzi e sono in acciaio in ossidabile 304 la misura di questo ciondolo è esattamente aspettate che me la sono scritta per darvi ulteriori informazioni 14 per 12 mm ve li mostro anche ovviamente aperti sono davvero molto lucidi e carinissimi carini carini e come dicevo prima sul presente appunto 10 ciondolini ed eccoli qua poi ho preso anche quest'altra versione di questi ciondolini con la scritta love con la zampina questo appunto il codice sono sempre 10 prezzi stiamo parlando sempre di acciaio inossidabile 304 ed è anche questo spettacolare guardate che carino con la scritta love con la zampina io li adoro queste cose qualsiasi cosa che è riconducibile appunto agli animali io li adoro impazzisco questi qui misurano sempre 14 per 12 stessa identica misura di quelli che vi mostravo prima attivino che rimetto di nuovo all'interno il tutto se non mi perdo qualche pezzo poi altri ciondoli ho preso questo qui questo è il codice sono cinque pezzi questa la forma di un fiore ed è più grande questo misura 22 per 19 mm anche questo molto lucido anche anche questo in acciaio inossidabile 304 ed è davvero spettacolare poi sul sito sono presenti davvero tantissime forme dimensioni c'è c'è davvero il mondo poi altro ciondolino questo anche è stupendo questo è venduto un pezzo e anche più quantità io ho preferito prenderne solo uno che ho preso appunto questo qui che è l'albero della vita un attimino che lo scarto eccolo qua guardate questo è il retro ovviamente questo è il davanti guardate che splendore questo ciondolo davvero spettacolare sempre in acciaio inossidabile 304 ovviamente colorazione oro questo misura 27 per 25 mm un ciondolo davvero molto importante e bellissimo questo è il retro solo il davanti diciamo è punzonato vedete già queste questi forellini qui in alto davvero splendido il codice già ve l'ho mostrato però vi ripeto tutti i link li trovate anche giù in descrizione poi ho preso questi pendenti davvero molto carini sono 10 pezzi questo è appunto il codice che vi mostro anche da vicino sono sempre in acciaio inossidabile questi misurano esattamente 24 per 12 mm hanno due fori e sono davvero carini come elemento decorativo per una collana o anche degli orecchini perché no sono sempre molto lucidi e qui appunto sono 10 pezzi poi ho preso questi altri pendenti questa è una forma di goccia invece quelli di prima erano appunto dei rombetti questo è il codice sono sempre 10 pezzi sempre in acciaio inossidabile 304 e qui ed eccoli qua questi li vedo benissimo sia per un pendente o anche per degli orecchini poi ho preso questi anellini saldati aspettate vi mostro il codice sono 10 pezzi sono sempre in acciaio inossidabile sono questi anellini saldati che misurano 12 mm e sono perfetti per essere lavorati al brick stitch oppure anche per fare delle lavorazioni assemblate di orecchini o collane oltre alla versione tonda ho preso anche questa qui quadrata sempre in acciaio inossidabile 304 nella nella colorazione argento questo è appunto il codice sono sempre 10 pezzi questi misurano 20 per 20 mm come dicevo prima sono sempre adatti sia al brick stitch e sia per fare delle lavorazioni assemblate davvero carinissimi io sto adorando tutte queste queste forme geometriche poi gli ultimi tre pacchettelli vi mostro prima questo questo qui è un anello che ho preso per me davvero spettacolare questo anello ve lo mostro è bello imballato e sigillato aspettate che spacchetto il tutto questo qui è un anello regolabile vedete potete tranquillamente anche allargarlo di un pochino è in argento sterling 925 e su questa parte qui in ametista poi questo qui è un'opalite io davvero l'adoro guardate che bello lo indosso così ve lo mostro anche indossato è spettacolare lo adoro è bellissimo ok me lo tengo grazie è bello 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 ok non ci fate caso sono un po' matta giusto un poco poi ne ho presi due versioni ho preso questo qui che appunto sono le goccine queste sono esattamente le mini pearl pendant e sono le 61 28 61 28 misurano appunto 8 mm e sono queste piccole graziosissime goccine cioè guardate che che luccichio cioè ve le mostro tutte perché sono wow adoro il mio tessoro cioè sono bellissime le piccole cociutine guardate che belle ovviamente colorazioni crystal tutte cioè sono spettacolari cristallo austriaco che spettacolo che scintillio che scintillio starei ore a fare questo movimento scintillio scintillio adoro 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 questi ci farò sicuramente un progettino e sono esattamente 36 pezzi e poi ho preso anche questi qui questi qui sono i triangoletta che mette a fuoco alla telecamera anche lei non ce la fa con tutto questo luccichio sono sei pezzi sono appunto i triangoli i 66 28 sono appunto misura 8 mm dicevo sono appunto sei pezzi e sono anche questi spavillanti sempre colorazioni crystal lo adoro guardate che belli bellissimi bellissimi sul sito ovviamente ci sono anche gli chaton ci sono anche i divoli ci sono tantissime forme e dimensioni differenti ovviamente di cristallo austriaco quindi niente ragazzi questi erano tutti tutte le cosine che ho selezionato appunto dal sito cobeads ho adorato tutto di questo ordine tutto 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 dall'inizio alla fine e niente ragazzi io spero che questo unboxing sia stato anche di vostro gradimento lasciate qui un commento se vi va e lasciatemi un pollicino in su oppure anche un pollicino in giù chi se ne frega tanto hanno la stessa valenza e quindi niente io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao